Complimenti anche per il tuo piazzamento per quanto riguarda le Deva, appunto. Sì, sono state molto brave. Sono state stupende. Quando me ne hanno fatto sentire, ho detto ma io non le voglio come vocalista supporto, io le voglio che insieme a loro canto io. E così siamo diventati in cinque, abbiamo diviso la canzone in tante parti uguali. Eh, guarda, è stato un atto di generosità e di comunque, insomma... No, ma perché così era funzionante anche, perché ognuno di loro ha un modo di esprimersi. No, era funzionante anche proprio da un punto di vista anche interpretativo e comunque anche scenico, perché a livello scenico eravate proprio belle tutte, ecco. Ecco, ogni tanto va un po' via la linea. e siamo contenti perché essere premiati da una giuria di musicisti è molto gratificante, quindi siamo rimasti contentissime e ci siamo ripromessi di poter avere un'altra occasione di presentare il disco in una televisione insieme. Ma infatti ti avrei chiesto appunto se magari intendevi portartene qualche volta a livello live, quando si riuscirà a fare il live, perché loro sono molto belle. Sì, 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 adesso abbiamo già detto al mio manager Pasquale Mammaro che, insomma, prima che finisca questo clamore di Sanremo, di poterle anche presentare in qualche manifestazione televisiva della pena. Certo, certo. No, no, fai bene perché comunque veramente siete state davvero una scoperta di questo festival, un po' particolare, un po' diverso, anche con, tra virgolette, degli artisti diversi rispetto agli altri anni. Sì, questo è vero. La gente, ad esempio, dice, ma ci sono stati meno ascolti degli altri anni. Ho detto, ma pensate che ci sono tante persone a te e quindi anche le famiglie che hanno una persona ammalata in casa e una persona che non c'è più perché ci sono stati talmente tanti morti, purtroppo, che non hanno voglia di vedere uno spettacolo di canzoni e di sketch, insomma. Però ce ne sono tante altre che pensiamo di aiutare, di passare almeno quelle tre o quattro ore non pensando a tutto questo oscuramento, non pensando a tutte le difficoltà di lavoro che ci sono. Da qualche parte bisogna iniziare. Per me hanno fatto bene il festival farlo, perché sai che c'è stata la cosa, no? Non fatelo, non fatelo. Però in questo caso dello spettacolo, almeno ho andato da lavorare per tre o quattro mesi a un settore dello spettacolo che è un anno termo, non almeno il 10% ha lavorato. Una soddisfazione di avere un lavoro, insomma, è un diritto umano e anche un modo di sentirti meglio, no? Purtroppo avrà lavorato il 10%, ma mi vengono anche quei 20... Questo 10%, ma... Per me hanno fatto bene farlo, non perché io sia qui in gara, così sia qui... No, no, ma lo so che non... Io ho sentito tante persone... No, no, hanno fatto benissimo a farlo, nel senso che... Il discorso degli ascolti è molto legato anche al fatto che non si possono tra l'altro fare paragoni tra un febbraio dell'anno scorso e un marzo di oggi, perché comunque c'è già comunque meno pubblico che comunque fruisce dell'apparecchio televisivo e poi c'è il discorso che comunque sulla bilancia dobbiamo mettere anche una ripartenza, da qualche parte bisogna pur ripartire. Qui si respira comunque tanta musica e quindi è giusto che ci sia uno start e che si riprenda da questo punto di vista.